Maiorino e questa volta non ha sbagliato La mezza che passa in espantaggio alla fine del primo tempo tutto da ripare stavamo giocando un po' bene, la mano, la mano si che è già monito questo giocatore è già monito, c'è l'espulsione, si è già monito già monito, il giocatore del Brindisi viene espulso con la mano, ha fermato un'azione d'attacco della Vigor Lamezia è stato anche un fallo, il giocatore della Vigor vanno a protestare con il primo assistente il giocatore del Brindisi protesta verso l'arbitro ma non era tanto volontario perché la palla era forte davanti al giocatore del Brindisi che andava in tecne ma l'abbraccio era un po' alto, la palla andava in profondità fallo di mano per l'arbitro volontario e viene espulso il numero 6 il numero 6, Fruci grazie